Sto cazzo!! Ciao ragazzi bentornazzi, Bentormrnati ad Ar-ta-ta-ta-ta-ta L'unicoICO vero profilartico che vi dimostra che non bisogna essere le leon delle stole casee per essere grandi e allora andiamo subito a o lito a la ta-ta-ta-cta Beh, in anni e anni di Arta-ta-acta sapete bene che io sono Un' Art-tatacc Letttere lettere letteri bille Zimmer billeatti Ah ma anche voi siete mai paí e allora sti Canzi cccps, una scurla vasata dalla mamma senti che male Pizza, pizza, pizza P P P P P P e P P No ragazzi che avete capito mica l'andaraghi mo di No no, no Allora lei è perfetta per conservare tutti i nostri cacchip Ed ecco qui Ah 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 il mio cubro Abbiamo bisogno di questo Di un pezzo di me Più o meno nonchemoi Poi ci procuriamo un tending Deve essere più grande del mio E stiamo attenti mi raccomando a non romperlo Arrotolate dei carnezzoli di giornale Per formare dei lunghi stronzi di cartà Per creare il famoso collone O e non di sborda Aggiungiamo molto speppam E così abbiamo la pallolla della nostra pizza Ma così non sa di un cazzo E allora come la volete questa pizza? Una funghi, una quattro strunzi, una quattro funghi, una margherita, il quacquacqu Insomma ragazzi per fare il condimento è davvero una cazzata Dobbiamo solo Guardate Facciamo schifo Mangiando un peperoni salame Formaggio prosciutto cocco E siccome vogliamo esagerare Cereali E sono contento della pizza che ho fatto. La nostra pizza dovrebbe essere cruda e allora... Ungete il pene con una generosa passata di sborda mista ad acqua. Appoggiateci sopra delle succulente palle. Usate il pizzello per far aderire la cappella in ogni angolino della farcina. Ora lasciate amistare. Ciao ciao sono sempre io il vostro o mai quella pizza sembra vero vero vero. Una tartanola. Cereali.